E' 22.31, bentornati al nostro appuntamento con le rassegne stampa. Il mattino di Puglia e Basilicata, ora che ha toccato i caschi blu italiani, si scopre che l'amico Bibbia è un criminale, scelta anche in questo caso di apertura sul Libano, con un taglio un po' differente alle conseguenze della sanguinaria guerra sostenuta da USA e paesi europei, scrive il mattino di Puglia e Basilicata. Trascorrendo questa prima pagina, due titoli, la manovra al bilancino stretta sui tagli alla spesa, più soldi alla sanità, il tema della sanità lo troveremo anche su altri quotidiani e poi fitto all'esame Europa tra i fuochi del PPE e del Partito Socialista europeo. I socialisti accusano i popolari di ampia apertura e i sovranisti annaquando la maggioranza ursola e il commissario italiano diventa il bersaglio dello scontro nella valutazione per la promozione.